Grazie Presidente. Signor Ministro, l'interrogazione punta a sapere quali iniziative il Governo intende assumere per realizzare nei tempi previsti il piano Italia a un giga. Vi è molta preoccupazione che il rispetto della scadenza del 2026 sia a rischio. Ci sono dei problemi strutturali noti, la carenza del personale esperto a tutti i livelli e in tutta Europa, non solo in Italia, che consente di rispettare la pianificazione per il stringente impiego dei fondi distanziati dalla Commissione europea. C'è un problema di semplificazione normativa, che pare ancora non adeguata. C'è il problema di una rete che formalmente è una rete Fiber to the home, ma in realtà in vari casi è una rete che si attesta a 20 metri dall'edificio condominiale. Ecco perché chiediamo di essere edotti di quali iniziative il Governo intende assumere per raggiungere questo importante obiettivo. Grazie.